Il termine verità è un termine molto importante nella filosofia e la parola chiave della filosofia stessa. L'amore per il sapere di cui la filosofia si nutre è certamente animato dalla ricerca della verità. Ma che cos'è la verità? Come si fa a capire se qualcosa è vero o meno? Il termine greco che indica la verità è Aleteia, che non esprime un fatto realmente accaduto, ma una sorta di disvelamento, una rivelazione. Qualcosa che prima era nascosto e ora non lo è più. La verità era quindi intesa come processo, un movimento che porta qualcosa da un luogo in cui era nascosto a un luogo in cui è colpito dalla luce. Il fiume Lete è quindi considerato il fiume dell'oblio. La parola aleteia, quindi dal greco alantano, che vuol dire appunto nascondere, vuol dire appunto disvelamento. Nel Novecento anche il filosofo tedesco Martin Heidegger ha svolto molte riflessioni su tale argomento.